Lei è la signora? Si troise. Possiamo entrare? Si, entrate. Buongiorno. Come è composta la sua famiglia? Mia moglie, mio padre e mia madre. Noi ci siamo già visti all'Olivetti, dove lei lavora, ricorda? Sì. A che età ha cominciato a lavorare? A 13 anni. Come manovale? Sì, apprendisto. E suo padre? Mio padre faceva il pastore. Ah, lo faceva, non lo fa più? No, adesso no. Aveva le pecore? No, le capre. Le capre? Dove le aveva? A Purtro, le stesse. Siete sposati da poco? Sì. Quanti figli desiderate? Due. Due? Un maschio e una femmina? No, è lì stesso. Ho due maschi, ho due femmine. Sentite un po', vostro figlio vi ha dato una bella soddisfazione, vi ha dato una bella casa. Siamo lì in una grotta, ora sono anche in distanza e ho chiesto e sto facendo un po' la signora. Quanto tempo siete stati dentro la grotta? Ventun'anno. Ventun'anno.